Vi trovate giù nella cantina di casa di Rainer Vi informa che per poter camminare tranquillamente anche armati all'interno di Wightron Bisogna possedere dei documenti particolari Conosce un tipo che potrebbe farli Può farli lui tranquillamente oppure se avete voi delle proposte Può avvisarlo di farli in maniera un po' più particolare Praticamente lui dovrebbe sfruttare il fatto che all'interno di Wightron C'è un particolare tipo di persone Che può farsi un pochino i fatti suoi Può girare armato Può andare in giro liberamente Può fare un pochino di casini La scelta sono tra questi nobili Chiamati stiliaghi Dei nobili in giro per Wightron Magari invitati da qualcuno Oppure uno schiavo C'è più o meno qualsiasi possibilità Soltanto che lo schiavo non dovrebbe possedere Possedere armi o oggetti magici Nemmeno armature Più grandi di un pugnale e così via Armature e armi più grandi di un pugnale Insomma ha una serie di limitazioni Invece lo stiliaghi o il nobile Può fare un pochino quello che gli pare Chiaramente un pochino Però deve indossare un particolare tipo di abito Tanto gli schiavi sono tutti i monaci Quindi le armi se ne pregano Sì Ad adesso c'ha la cintura magica Quindi per lei È un po' un problema fare lo schiavo A meno che poi uno non gliela passi Uno non fa il nobile Perché per lei fare il nobile Non se ne parla Quindi se lei dice Faccio la schiava Oppure si indossa la Quando arriveranno là Probabilmente sarebbe pure esaurita L'energia magica Della pelliccia Mentre la nobile Quindi Ovviamente avete un giorno di tempo Per poter fare tutto Dicevo voi avete qualche cosa In particolare Qualche proposta in particolare Che dovete fare Ad si propone come schiavo Gli va bene Anche Torin può fare lo schiavo Quindi potete decidere Che fare Non credo di poter fare lo schiavo Io faccio il nobile Tocca due nobile e due schiavi Esatto Ho paura a dirlo Mi so che Ci punterò per la stagione Quindi farà Scrive una lettera E la spedisce Per farla arrivare Al tipo E vi informa che ci vorranno Due settimane Quindi Ci sarà tutto il tempo Per i preparativi Guarda a caso Due settimane No no davvero Probabilmente è veramente così Sì sì Il motoculo è basta Sì sì Il culo Ovviamente due settimane Se vi dovevate personalizzare Una settimana Si doveva fare lui Possiamo rifarci l'outfit Sì ovviamente Vi fate Vi aggiornate tutto l'outfit Però vi informa che dovranno Bisognerà andare a prenderlo A Whitron Quindi dovranno Dovrete prima entrare Tutti insieme Dovrete prima entrare E poi poter andare Vi informa anche che Per chi ha La pelliccia È più conveniente Indossarla In questo modo Così Per il Per i quartieri Gli urlanti È molto più facile Accedere Per poter passare A Whitron Quindi Vi informa anche che Lui è stato contattato Dalla Dagli araldi Dell'estate Che è la resistenza Che si sta formando A Whitron Di cui La resistenza Di cui fa parte Di cui fanno parte Tutte le Gli NPC Che non mi so Quando mi si chiamano Sighia La stregona Che vuole vendetta E tutti gli altri Tutti gli altri Gli NPC arrivati Chiaramente Rainer verrà con voi Perché È l'unico che Conosce È un modo per arrivare In più In vita In più chiede A Nadia Di rimanere lì Con i bambini Piuttosto che Seguirli Però vedete Nadia Che un pochino Non sa cosa fare Cosa fate voi Dite di rimanere Là Oppure Ada È per il Farla rimanere Lì Con i bambini Condivido Infatti Condivido Anche Dorin Ok Allora Salto temporale Di due settimane Per poter partire Dicevo Non vi ho messo Sulla mappa Perché Magari Vi metto L'immagine del party Cioè Metto questa Ok Riduciamo Allora Intanto Considerate che C'è davanti a voi Il carro Un carro di pesce Dovete Bisogna scegli Chi lo dovrà spingere Ada No perché Non ha abbastanza forza Per spingerla Considerate che Siete anche Tutti disarmati Sia chiaro Si basa Sulla forza Quindi Si Si basa Sulla forza Lo spingere Il carretto Sì Ho potuto Forse sono L'unico No Anch'io Sì Infatti Ho un bellissimo Dice 20 Vabbè Allora Non cambia niente Sì Appunto Allora Intanto Vi Vi descrivo La situazione Allora Gli ululanti E prendete un piccolo Quartiere Che è antista Alla Alla Wildron Vera e propria Venite di fronte a voi Vi trovate un muro Enorme Alto Circa Trenta piedi Quindi stiamo parlando Di una Cin No Sei Sette metri di muro Ok E Sembra come se fosse Un enorme muro Fatto di ossa Una dentro Una incastonata Nell'altra E fuse tutte insieme Ma in realtà Un occhio più preciso Si vede che È pietra Scavata Per dare Questo effetto Vedete anche Delle pietre In cima ai muri Che sono a forma Di teschio Per mantenere Il Il design Molto Molto chic E Di fronte a voi C'è praticamente Una strada Di Di terreno Completamente Ghiacciato Di fronte a voi Questa casa Ok C'è questa piccola casetta Di fronte È praticamente Una sottospecie Di casello Ok Quindi Una casa Abbastanza piccola E Accanto a questa casetta Vedete Vedete Una Una giovane donna Dai capelli bianchi Voi Non lo so Avete già indossato Le Le Pellicce Ok Ok Sì Non è che ne avrei Anche troppo bisogno No È una pelliccia magica Allora Adesso vi descrivo La situazione Un attimo Prima Che l'hai indossata Magari poi la monta La metto prima O poi la lascio Così all'avventura Allora Nel momento in cui Indossate l'armatura All'improvviso Tutte le differenze Fisiche Tra virgolette Cioè A livello somatico Estetica Che vi differenziavano All'improvviso Spariscono Vi trovate tutti Con un occhio Azzurro E un occhio viola La pelle più pallida E i capelli tutti bianchi Anche nel momento in cui lo fa Adasi Guarda in ciro Ma avete i capelli bianchi Poi metterlo I capelli si muovono Ce li ho bianchi anch'io E Cercava Uno specchio per guardarsi Però vede a terra Ah vabbè Sti cazzi Fa niente Comunque Vedete questa Diciamo gracile Ok perché comunque La vedete Con lo stesso fisico Di Ada Alta Più o meno uguale In realtà anche Cioè più o meno Proprio come Ada Se vi aspetto Che vi aspettereste Da Ada Però a differenza di Ada Che Ada è praticamente A mani nude Vedete che questa C'ha un'ascia bipenne Che è più grande Della sua testa Si presenta a voi Gli documenti Dato che Sembrate dei Sembrate di lì Sembrate dei lupi D'inverno Mentre sta Con l'ascia bipenne Piantatamente per terra Appoggiandosi Con la mano Sul manico dell'ascia Aspettando i documenti Se volete Potete farmi un tiro Di Diplomazia O raggirare Per cercare Di fregarlo Con quelli Oh guarda Siamo usciti Di casa Senza i documenti Un attimo Che entri Li vado a prendere Andiamo Dai facciamo Che prendo 20 Con Ada Quindi Ci fa passare A fatto che dopo Passa Ada passi Da casa sua Quindi Poi Calerò Calerò un sipario Su quella situazione E andrà avanti Quindi non Vi descrivo un cacchio Le forbici Mattono le porne Si 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 Vabbè Ada fa sasso Però Arriva Fino al gomito E gira Mi chiamano Overdrive Andiamo avanti E lasciamo stare Allora quindi Chi spinge il carretto Penso Rainer Perché è l'unico Che Non dovrebbe far nulla Se non accompagnarci Tanto Ada mena Thorin mena Quindi quei due Menano E stanno davanti Scusami Se dobbiamo Interpretare dei nobili Non ci mettiamo A spendere il carretto Hai ragione Si ma Interpreterai il nobile All'interno di White throne stessa Non qua Ah infatti Ok gaspita Vuoi Scusami Devi giocare di ruolo E non giocare di ruolo Uno deve rimanere Nella parte Non è che puoi figliarmi Così E' un'altra parte Di fare le cose Scusami C'è chi di ruolo Dentro il ruolo Vado veramente Che inception Comunque Allora Iniziate ad entrare E vedete Vedete le strade Di questo quartiere Tutte abbastanza strette Che fanno Malapena passare il carro E vedete Le case di legno Come nel quartiere Dei pescatori Però Sono molto più precise Hanno dei dettagli Incastonati nelle porte Poi però Ci sono una serie Di ponti Fatti in legno Malissimo Tra le varie case Però Diciamo È un ambiente Un pochino Più Più vivo Più vivo Di quello Di quello Dei pescatori In giro Considerate che Siamo arrivati Di giorno Quindi Ci sta Un bel po' Di gente Che sta in giro Giusto per Per saggiare la portata Di persone Che ci sono Consiglia in giro Vedete Un sacco di gente Con capelli bianchi Quindi Questo quartiere Abitato principalmente Da loro Vedete ogni tanto Qualche Passare Qualche troll Come se fossero Delle guardie Guardano un po' In giro Poi se ne vanno Allora Quindi Rainer Spinge il Spinge il carretto Piano 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 Arrivate In questo Bivio Qui Ok Sono l'immagine Del gruppo Quindi se vi perdete Zommate Allora Sentite Ad e Thorin Stanno i due Fianchi davanti Turion E Lili Stanno i due Fianchi di dietro Sentite Alla vostra Destra Tra dei carri Sentite Una piccola Vocina Che Che vi sbeffeggia Che vi prende Un po' in giro Fa Ehi guardate Gli spirungoni E quel carretto Fosse di merda Perché se Dele vicino Eh Quindi Sentite Questa Schifo Di vocina Quando vi girate Vedete Tre Piccoli Goblin Però La loro pelle È Azzurra Ok Vestito Pesante E Notate Che Uno di Loro Indossa Un Prendete Una Mazza Ok E Varie Fiaschette Intorno Alla Cintura Ha Anche Un Cappello Tipo Puffo Però Fatta In Pelliccio Ok È Molto Ridicola Come Situazione Però Vedete Comunque Sono abbastanza Seri E Hanno Un'aria Minacciosa Dove Vorrei fare Una cosa Molto Divertente Quale Lacciare Attaccare I nemici Che costringo Un nemico A colpire Un altro Nemico Non Lo so Questa è una Di quelle cose Che ti stavo Dicendo Prima È una Di quelle Istituzioni Che non Sai Se fare O non Fare In base A che Cosa Succede Sì Adal Sta Guardando Sta Cercando Di capire Un attimo La situazione Vuol dire Gli picchia Tutti Oppure Ne picchia Uno Solo Guarda da voi Il segno Di approvazione Del picchiarli Del minacciarli Sta Guardando Voi Che faccio Li minaccio Proprio Con lo sguardo Che Proprio Leggete Voi Negli occhi Del che Faccio Li minaccio Sì Dai Io ti Farei Uno sguardo Di Faccipiano Che Non vogliamo Tenere Attenzione Chiaro Considerate Che Per il fatto Che Indossiamo Una La pellice Quindi Se abbiamo Dei lupi Invernali Abbiamo Più Cinque Alla prova Di intimidire Qualsiasi Altra prova Abbia a che fare In questo Villaggio Praticamente Si avvicina Ada Se non ve ne andate Vi spezzo Le osta Una a uno Guardando Trovate il capo Quindi lo sta Fissando Al momento in cui L'ha fissato I tre Se ne sono scappati In direzioni Diverse Uno a destra Uno a sinistra L'altro Sta scappando Dall'altra parte Nessamente Quello che Prende il capo Che Stava Prendendo La fiaschetta Vedete proprio La mano Che va verso La fiaschetta E poi scende Giù Perché Se la sta Cagando E che fate Lo volete Prendere Consegnare Ai troll Oppure Sti cazzi Lasciatele La Sti cazzi Quindi Facciamo un bel avanti Veloce Sti cazzi Grazie a tutti. Grazie a tutti.